Con due non riuscirei a raccogliere tutte le emozioni che questi anni mi hanno dato, che poi sono state emozioni positive ma ricordo anche quelle negative perché hanno fatto sì che mi costruissi e arrivassi a essere quello che adesso sono e contento di essere. Ovviamente i primi pensieri della vita privata vanno sempre alla famiglia, che sono i genitori e i miei fratelli e ovviamente mia moglie e i miei figli, insomma quelli sono sempre i pensieri prioritari. Per quanto riguarda la vita sportiva ho passato tanti anni in questo ambiente che adoro e tutti quanti ovviamente mi ricordano per la ciliegina sulla torta, però io ricordo volentieri anche la torta e mi auguro che nel tempo di poterne fare anche delle altre perché sarebbe piacevole farle però come ho detto prima sono stato contentissimo di tutte le cose positive che ho avuto perché ho avuto la fortuna per me, è stata una fortuna di cavalcare tutte le categorie da quelle tanto lontane a quelle che tutti conoscono e ovviamente in tutta questa cavalcata ci sono state tantissime soddisfazioni, ci sono state anche tantissime delusioni che mi hanno aiutato poi a saper godere delle soddisfazioni che sono arrivate. Siamo contentissimi, lo ripeto e lo ribadisco, di questa atmosfera che si è creata però dobbiamo essere tutti molto molto bravi a saperla contestualizzare, a saper prendere quello che di positivo c'è perché ovviamente anche noi non è che ci vogliamo tirare indietro perché sappiamo che stiamo facendo qualcosa di bello e abbiamo tanta voglia di continuare ma sappiamo anche che partecipiamo a un campionato dove ci sono tre squadre che pochi mesi fa giocavano in Serie A e quindi conosciamo tutti quelli che sono i loro organici ci sono altre squadre che pochi mesi fa hanno fatto degli investimenti molto molto importanti e che quindi ovviamente hanno le qualità per fare bene noi non vogliamo tirarci indietro né guardare avanti vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo lavorare perché è l'unico modo che abbiamo per poter continuare a fare quello che stiamo facendo sapendo che ci saranno, ci sono state e ci sono anche a partire da domani delle difficoltà grandi ogni volta che affronteremo ma abbiamo voglia di affrontarle con le nostre qualità senza perdere la cosa più importante che dobbiamo avere in questo percorso che è l'equilibrio e quindi noi vogliamo andare avanti vogliamo farlo bene sapendo che ripeto ritroveremo delle difficoltà ma vogliamo avere la struttura per poterle affrontare così come stiamo affrontando le cose positive che stiamo avendo domani è un appuntamento bello, importante, difficile perché sappiamo che incontriamo una squadra di categoria superiore è una squadra che ha appena cambiato l'allenatore quindi conosco l'ex allenatore a cui mando un saluto e ovviamente il dispiacere di non aver potuto continuare la sua avventura conosco l'allenatore che sta entrando tutti quanti conosciamo quelle che sono le sue qualità perché l'ha saputo sempre dimostrare sul campo e quindi incontreremo una squadra che ha tanta voglia di volersi mettere in mostra con il nuovo allenatore sappiamo che è una partita ricca di insidie però a noi può farci bene fare una partita di sacrificio perché credo che sarà una partita di sacrificio e quando è il momento riuscire a proporre quello che sappiamo proporre perché sicuramente avremo le qualità per poter, spero, fare una partita di livello troveremo un avversario che non conosciamo come avrà voglia di schierarsi e questa per noi sicuramente sarà un'insidia in più oltre al fatto delle qualità dell'avversario in sé perché sicuramente hanno dei giocatori importanti perché partecipano a un campionato importante vengono da delle difficoltà li prendiamo nel momento in cui hanno voglia di dimostrare che non sono in difficoltà quindi sono convinto che faranno una grande gara e sono altrettanto convinto che dovremo essere pronti per reggere questo urto che sarà importante sia emotivo che tecnico perché tecnico lo sarebbe stato comunque ma emotivo sicuramente sarà diverso quello che incontreremo e per noi è un test importante perché ai ragazzi gli ho detto che sempre in ogni partita non è determinante il risultato che andiamo ad ottenere anche se come ci diciamo sempre indirizza molto gli umori sia nostri che di chi ci circonda però sarà importantissimo il modo con cui faremo la partita il modo con cui faremo tutta la partita senza lasciare andare neanche un minuto quello mi aspetto dai ragazzi che scenderanno in campo domani e anche dai ragazzi che non scenderanno perché come sempre chiederò a tutti massima attenzione massima partecipazione perché per noi è un impegno importante e quando rappresentiamo una città del genere non possiamo permetterci di andare in giro a sottovalutare niente e nessuno anche se ovviamente non ci sarà niente da sottovalutare perché l'avversario lo conosciamo tutti grazie grazie Grazie.